Salve a tutti ragazzi, io sono Alberto e benvenuti in questo nuovo video di Carboil Grand Tour. Ho portato il lander per Tylo in orbita, torno a Tylo, sfortunatamente consumando un po' più di fuel del previsto, l'orbita è circa più o meno, non voglio sparcare altro fuel, anche perché ho 74 unità di liquid fuel nel transfer stage e che mi serviranno per iniziare la burn di the orbit, non riesco a parlare. E poi ho anche scoperto che il decoupler, che non dovrebbe permettere il fuel transfer, lo permette lo stesso, per qualche strano motivo, quindi se finisco il fuel nel modulo d'atterraggio posso trasferire il fuel dal modulo sopra e poi rifornirlo da capo. Il perchè non lo so, però adesso andiamo nel modulo crew, perchè ho mandato solo il modulo della crew, perchè, tra l'altro i paracadute che ho aperto per sbaglio, è il modulo della crew perchè, e il resto non ho voglia di mandarlo su Tylo, dato che su Tylo sarà una intermissione d'usa e getta, tra virgolette, li lascerò in orbita attorno a Bop e poi quando sarà il momento li manderò su Val, senza passare in mezzo da Tylo che ci perdo parecchi chilometri al secondo di delta V. E su Val poi farò rifornimento, ultimo rifornimento, poi assemblerò una specie di mini ship da mandare in orbita attorno all'8, intorno all'8 faccio tutto il resto, dall'8 ritorno su Val e poi da Val parto verso qualche pianeta, che al momento non so. Quindi adesso il modulo d'atterraggio, c'è qui, Gbd a Bilbob, ok, quindi lo stacco. Però non ho RCS. Ok, allora mi ridocco. Rifornisco di RCS e poi vado a doccarmi sul lander e non il contrario perché non posso appunto permettermi di consumare più fuel. Forse dovrei installarmi l'attack perché quei serbatoi non sono molto simmetricamente svuotati per niente. Ok, ora di partire. Vediamo di... Allora, set es target. Aumento a caso poi vedrò. Passiamo solo due motori, perché sì. Ok, intanto i paracadute. Reset. Reset. E reset. Perfetto. Non è successo niente. Ok, sì, 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 no. Ok. Parità in Europa per andare al sole. Ok. Ok. Ok, trasferiamo la crew. Indietro. Ok. Bill, Jab e Bob. E ora F5. Ok. Alt F5. Il problema è atterrare in un punto dove c'è il... dove ci sia il fuel. Perché non ho mandato il satellite. Dato che non aveva abbastanza delta V, quindi ho deciso di... Ho deciso che lo manderò in orbita torna a Val. E poi da lì penso lo deorbiterò, perché non ha abbastanza delta V per venire qui sotto il tile. Quindi dovrò atterrare alla cieca. E spero, quindi, di trovare un punto con il fuel. E direi di atterrare in questo cratere. Sembra abbastanza piatto. Uff. Perché mi considero i motori a monopropellente? Non lo so, dato che sono di quelli... Staging. Vabbè. Vabbè, ora mettiamo retrograde. Magari giriamo orizzontalmente. Ed orbitiamo. Quando è delta V mi faccio risparmiare il transfer stage? Non lo so, ma è pur sempre delta V gratis. Oh, ups. E si comincia. Provevente all'atterraggio più difficile della serie. I serbatei supplementari sono già a metà. Vado a dire di spegnere qui. In caso ho il quick save. E quando siamo... Qua sopra, ok. Deve avere retrograde. Bene. Scusa... E perché... Staging, dai. Te robarti. Almeno la delta V è quella. Quindi... Spero anche ci sia del Lord da scavare. Comunque, quello che vi dicevo è questo. Che riesco a trasferire comunque... Il fuel. Perché... Logica. Motori supplementari. Tutto quello disponibile. Mi sa che non ce la farò. Mi sa che devo iniziare prima. Ok. Mi sa proprio di sì che devo iniziare prima a ralentare. Ma ciao terreno. Ricominciamo. Ok. Il motivo per cui non sono riuscito prima... Cioè... È perché ho finalmente fatto la burn in due parti. Quando invece andrebbe fatto in una parte sola per essere il più efficiente possibile. Spero di riuscirci adesso. Ah... Poco fuel, 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 poco, poco... Poco fa... No! Ce l'avevo quasi fatto. Stavolta ce la posso fare. Un po' di più. Ho usato tutto il fuel disponibile anche nello stadio sopra. No! Ce l'avevo quasi. Non finirà, non finirà, non finirà, non finirà, non finirà. Eh, eh, il fuel, il fuel, il fuel, il fuel, il fuel, il fuel, il fuel. No! Sì, 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 no, 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 sì, sì. ce l'ho fatta perché ma sta ma perché non va convertitore allora a quanto pare se io scavo dell'or e metto convertitore però non ho un serbatoio per contenerlo non me lo elabora e se tipo io non avessi spazio per un serbatoio d'or perché pesa troppo mi stai prendendo in giro Kerbal beh ci sarebbe una soluzione potrei andare a editare i file persistente e rifornire il lander torno subito ok rifornito ora torniamo al lander eeeh ci questo è rifornito 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 bene no perché no retract eeeh ok eeeh ora la bandiedra non ho la scaletta fail dopo l'altro no bill no no ah bill pianta la bandiera ok risalire il jetpack non basta non ho un'idea usiamo il drill come scaletta ok non chiedetemi cosa sta facendo aspetta ho un'idea oddio dai metto bill sul pannello solare allora sali bill sali oh qui 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 intanto retracta prendimenti e me lo porto dietro per tra virgolette te rimani lì mhm non chiedetemi cosa voglio fare ora torniamo all'under normale anzi no è meglio solo metto sul pannello solare ok ok no dai bill eff 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 eh qua no quasi no aia aia rampipati dai su oh cosa ho fatto non smontarlo si 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 Bill 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 ce la fa Bill F F F F no no F ok va bene lo stesso ora piano F grab si un po' pesantuccio mi dicono bisognerebbe andarti lì ma va bene Bill dopo fine serie voglio un monumento costruirò un monumento per Bill ok però possiamo riaprire i ponesi magari se la traiettoria fosse un po' più dritta ok momento di andare con i mini razzetti la prestage ha praticamente più delta B del descent stage però va bene ogni termor poi ci vorrà parecchio lo stesso ok e ora rendevo con l'undertron e poi l'undertron a il crew Bill è nei combinati di tutti i colori in sta missione peggio di Jeb Jeb ha solo fatto schiantare l'undertron un paio di volte comunque come ho già detto farò tutto il rendervo adesso e poi inizierò tutte le manovre di transfer per Val che sarà la prossima settimana quindi un saluto dal team di Carbole Italia ad Alberto per l'undertron